Buonasera opzionisti! Eccoli qua! Oh, l'altra sera negli Option Days, l'altra mattina, negli Option Days, nelle tre mattinate di Option Days, a un certo punto ho detto una cosa assolutamente vera, di cui voi fate parte, dicendo che il mio obiettivo professionale è quello di creare la più grande community di opzionisti profittevoli in Italia. Quindi, avete una responsabilità, chiaro? Vedete di fare bravi e di operare con criterio, perché siete parte di questo viaggio e di questo obiettivo. Pertanto diamoci tutti una regolata, così. Anche se non avete fatto cazzate, va bene lo stesso. Preventivamente. Allora, come andiamo? Domani sera, tra l'altro, ci sarà un'altra serata di Option Days. Ho fatto tre mattine settimana scorsa. Sono state interessanti, secondo me. Tra l'altro, ero partito, come al solito, con un'idea, con un programma. Poi ho deviato a seconda delle domande che mi facevano lì per lì. Però sono state, secondo me, tre belle mattinate. Domani sera completo, perché c'era tanta gente che ci ha scritto in privato dicendo, eh, ma io la mattina non posso, faccio ancora quella roba brutta lì di lavorare, in ufficio non riesco ad ascoltare, voglio seguire dal vivo, quelle robe lì. quindi, quindi, domani sera, se volete, ore 21, ci sarà l'ultima puntata degli Option Days, dove sapete, è una serata divulgativa, ma se a qualcuno piace sentire parlare di opzioni, va bene anche quello. Dai, Sergio, basta, smascherati, è inutile che ti mascheri dietro a mentite spoglie, a mentite piadinose spoglie. Nel nostro piccolo ci proviamo, bravi. Ci stiamo allargando, Piero, ci stiamo allargando, esattamente. A prescindere. Aspetta che vedo se... No, non te lo posso cambiare io. No. Va bene. E niente, signore e signori, siamo qua e se parliamo di operatività profittevole, direi che quest'ultima settimana ha qualcosa da dire al riguardo. Perché è cazzarola, oh. Cazzarola. Cazzarola. Cosa volete aggiungere a cazzarola? Non so, cosa si dice da voi? Datemi un'esclamazione un'esclamazione tipica della vostra zona e o regione che corrisponda al milanese uè cazzarola per dire minchia se vogliamo se volessimo dirlo in siciliano o per dire non lo so come la volete descrivere una situazione tipo questa? Cioè effettivamente concordo con voi che tutto questo rosso effettivamente infastidisce. Vero? Possiamo dirlo? Che infastidisce? Infastidisce. Assolutamente. un mio mentore del mondo del pattinaggio grandissimo ballerino e direttore artistico della Scala una volta mi disse Andrea l'importanza dei dettagli è fondamentale nella coreografia e nella direzione artistica ricordatelo pensando sempre a questa immagine se davanti a te vedi un muro per esempio di un castello tutto fatto di migliaia e migliaia di mattoni tutti perfettamente incastrati e in quell'enorme muro manca solamente un mattone l'attenzione di tutti non sarà fra i 199.999 mattoni che ci sono ma su quello che manca lì in quel punto lì quindi mi raccomando niente buchi per cui in un oceano verde come questi la nostra attenzione va solo esclusivamente qui per il bias del mattone il bias del mattone mancante il grande il grande Giuseppe Arena grandissimo ballerino direttore artistico Ostreghetta Ciumbia Soccia Megoglioni il Marco va sul va sul romano va bene ragazzi questo è il è il quadro generale della situazione quello singolare io credo che bene o male ce l'abbiate sott'occhio perché ne abbiamo un po' parlato con qualche post scherzoso su Instagram in settimana e niente abbiamo abbiamo incocciato un altro un altro come dire tornata di punti di inversione presi alcuni con timing perfetto altri con timing non perfetto ma comunque buono e e quindi abbiamo e quindi abbiamo la possibilità di fare un gran take profit in realtà stasera abbiamo un gran buon problema nel senso che dobbiamo decidere che cosa fare con tutte le varie posizioni se tenerle lì fare take profit modificarle in qualche modo che è un gran bel un gran bel problema da avere però è sempre un problema comunque dobbiamo fare un po' di riflessioni facciamo una carrellata veloce e poi andiamo per ogni singola posizione a fare delle considerazioni questo è sterlina dollaro dove abbiamo chiuso in pari la prima operazione e rollato e quando abbiamo rollato abbiamo avuto un timing perfetto va comunque sottolineato che anche la prima posizione se avessimo avuto l'ardire di tenerla aperta sarebbe comunque scaduta in full profit in realtà ragazzi vi invito a farvi una carrellata del nostro passato della nostra storia operativa di questa sala e andate a vedere che delle operazioni che abbiamo chiuso in stop loss barra parità barra perdita una grandissima grandissima percentuale di queste dopo la chiusura in stop loss si sarebbe poi effettivamente chiusa in full profit andate a farci caso andando a a guardare tutte le varie lo storico delle nostre operazioni dei nostri disegnini vedrete che una grossa fetta delle operazioni che dove abbiamo deciso di chiudere in stop loss ed eventualmente poi di riaprire dopo alla fine poi la prima operazione chiusa in stop loss si sarebbe effettivamente chiusa in take profit e questo potrebbe far pensare che in qualche modo questo non vada bene no? della serie e allora ci conviene tenerle aperte no? se le cose funzionano così e in realtà non è così perché questo costo che sosteniamo perché di fatto è un costo perché se togliete tutti quegli stop loss aggiungete tutti i full profit che avremmo fatto se non avessimo chiuso l'operazione il profitto che è già importante che stiamo facendo sarebbe esploso d'accordo? quindi economicamente è un costo questo che stiamo sostenendo ma è un costo che sosteniamo volentieri perché è il costo dell'incertezza sul futuro relativamente al fatto che se ci fosse anche solo una operazione dove questa cosa poi non avviene e il sottostante invece continua ad andarci pesantemente contro e noi non applichiamo lo stop loss e non chiudiamo quell'unica operazione avrebbe il potenziale un po' in stile cigno nero di rovinarci tutto di rovinarci tutto il nostro gioco di numeri che stiamo invece tenendo in equilibrio così bene da ormai tempo da ormai diversi anni chiaro? è il costo della della è il costo del cigno nero della probabilità chiamatelo come volete del sapere che noi un meccanismo di controllo del rischio che interviene ad un certo punto ce l'abbiamo e quindi che abbiamo la consapevolezza che nessun movimento scandalosamente sfavorevole possa danneggiarci eccessivamente ovvio salvo gap importanti salvo cose extra tipo il famoso gennaio 2015 dell'euro franco se vendiamo opzioni naked ragazzi dobbiamo essere consapevoli che una roba assurda e no assurda altamente diciamo improbabile come quella lì se fossimo stati posizionati nel modo sbagliato in quel momento con un money management magari un po' aggressivello è lì chiaramente un po' di scopola l'avremmo presa però di questo ne siamo consapevoli fin dall'inizio se no non faremo questo tipo di operatività ricordatevi che l'unica l'unica cosa che vi mette al riparo da quel tipo di eventi lì stile cigno nero stile gap stile succede una volta ogni vent'anni l'unica è comprare opzioni perché neanche operare col sottostante ti mette al riparo da quella roba lì attenzione l'unica sono le opzioni comprate o comprate in direzionale o comprate in difensiva quindi o tipo buy call buy put o tipo married call married put chiaro? è l'unica cosa quindi o un'opera solo con le opzioni comprate ma ci sono altri difetti e altre problematiche oppure se operi con qualunque altra cosa sei esposto a quel tipo di rischio e l'unica vera livello di guardia che noi abbiamo contro questo tipo di eventi di fatto ragazzi è l'asset allocation cioè il fatto di depositare su un conto trading una quantità di soldi che in ultima analisi ultimissima analisi siamo comunque ok col mettere a rischio è chiaro? questo è veramente importante per quello ragionamenti all'Andrea Pula che dice io faccio il money management su 10k ma nel deposito 2 ha senso per questo tipo di eventi ha molto senso chiaro? vi butto lì sta riflessione che mi è venuta istintivamente adesso ma che è importante ogni tanto ricordarci ci siamo su questo punto importante? no 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 lo stop non funziona Nino non funziona proprio assolutamente quindi l'unica vera l'unico vero antidoto è l'asset allocation cioè come distribuisci i soldi sui vari conti quanto metti su ogni conto trading eccetera eccetera e parte del discorso dell'asset allocation è quello di cui parlavamo le settimane scorse cioè il fatto magari dopo un po' di profitto di prelevare perché tu sai che lo zero del tuo conto trading è di fatto l'ultima forma di stop loss l'ultima l'ultima il difensore di ultima istanza ok com'è che si dice un avvocatese c'è qualche avvocato no l'ultima istanza il pagatore di ultima istanza come cacchio si dice va bene va bene va bene va bene proseguiamo con la nostra carrellata questo è Stellina Dollaro questo è Audi New Zealand ragazzi scusate in ritardo di che titolo di cosa state parlando è arrivato Marco che si è sentito solo la parte spaventosa e si è agitato no Marco tranquillo non stiamo parlando di nessun titolo specifico mi era partito un treno di pensieri un pippone relativo al discorso diciamo cigni neri no cosa succede operando con opzioni vendute se c'è una roba tipo eurofranco di gennaio 2015 dove c'è un movimento in gap molto forte e vi dicevo che giustamente operatività con opzioni vendute non ti ripara da quel tipo di evento solo quella con opzioni comprate ti ripara da quel tipo di evento vediamo aspetta un po' quello che dicevi stamattina Piero sì giustamente Gian Delfino quindi non bisogna avere troppi soldi sul conto non troppo il troppo è relativo cioè non una quantità eventualmente persa la quale per te costituisce disastro finanziario aveva senso in italiano questa frase non lo so mio figlio sta studiando i pronomi relativi quindi c'è un po' di minestrone in testa su che la quale il quale la quale questo tra l'altro è un bel esempio di quello che dicevo prima ragazzi operazione che abbiamo chiuso in stop loss su Audi New Zealand quest'estate a luglio tra l'altro chiusa malissimo nel senso esattamente sul top mortacci sua che alla fine sarebbe scaduta in full profit vabbè chiusa parentesi Remigio dice che poi su conti a margine tipo i B in teoria si può perdere anche oltre del posto o sbaglio sì Remigio non è tanto questione di conti a margine è questione di sì di conti a margine che hanno i prodotti di tipo regolamentato i prodotti regolamentati che non sottostanno quindi a questioni ESMA eccetera eccetera come anche su WeBank purtroppo possono portarti anche in negativo sì questo è vero Biagio dice anche con i vertical spread domanda Pivella no non è una domanda tanto Pivella Biagio è una bella domanda e la risposta è no cioè i vertical spread ti proteggono perché i vertical spread ti proteggono da eventi del genere perché hanno dentro un'opzione comprata che come dicevo prima è l'unica cosa che ti protegge veramente un vertical spread è fatto di un'opzione venduta e una comprata quell'opzione comprata è la tua salvezza che è il motivo ragazzi per cui noi sullo spike di volatilità del 5 di agosto facendo la famosa Cannavix non abbiamo proprio avuto il minimo problema anzi così proprio ci facevamo così sulle spalle della serie è successo qualcosa qualche problema non ce ne siamo neanche accorti di quello che è successo col VIX ad agosto anzi come abbiamo sempre detto al corso nelle slide per noi ha costituito un'occasione straordinaria per aprire un'ulteriore operazione ribassista che aveva ancora una maggiore probabilità di profitto eccetera eccetera quindi per noi è stato un'ottima cosa quello spike di volatilità chi invece c'è facendo dei corsonis eh 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 rito da solo facendo dei dei corsonis pericolosonis aveva solamente le call vendute e non un vertical spread che ha dentro anche la call comprata e non se l'è vissuta bene quella quella prima parte di agosto ragazzi gli si è un po' rovinato il porcellino di ferragosto eh capito va bene chiusa parentesi Nino dice allora mettendo meno soldi potrebbe avere senso non mettergli gli stop e fare eventualmente il roll della posizione sì dice Nino virgola nel senso che non sarei così transciana nel 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 giungere a una conclusione di questo tipo perché secondo me l'operatività deve comunque avere avere un senso però un pochino più di elasticità sì la puoi avere no motivo per cui io vi dico spesso che sugli stop sono leggermente più più morbido in alcuni momenti non sempre in alcuni momenti è perché ho uno storico di un certo tipo eccetera eccetera Remigio Andrea ma tu le operazioni di investing lungo periodo quindi usi un conto cash DB sì Remigio ho due io su DB ho diversi conti due cash e diversi invece a margine perché alcuni ce li ho intestati ai personali altri all'azienda insomma ho un po' una situazione variegata diciamo alcuni sono cash alcuni sono margine e quelli margine ce li ho tutti divisi in sottoconti per tenere l'operatività separata come a compartimenti stagni chiaro perché mi serve un ordine mentale per cui io so che sul conto nonostante il conto a margine sia un conto unico al suo interno ci sono cinque sottoconti il sottoconto A mi serve per la thank god it's money il sottoconto B mi serve per le super call e le super put il conto C mi serve per la paycheck ho bisogno di un ordine mentale che mi separi mi compartimenti il conto cosa che tra l'altro suddivide il rischio perché ogni conto fa marginazione a sé d'accordo quindi quello è molto utile il fatto di usare i sottoconti di B oltre al fatto che appunto ti permette di avere un ordine mentale e operativo che per me è essenziale magari per voi no ma per me lo è e poi però ho dei conti cash dove invece ho il portafoglio azioni di lungo periodo quello senza leva con i soli titoli sostanzialmente Gian Delfino ma la marginalità sarebbe andata alle stelle? sì assolutamente sì Gian Delfino nel momento in cui ti fa quello sparone il VIX o ti fa il crollo del mercato sulle put dell'S&P tu perdi e in più salgono i margini ed è proprio questa confluenza sfavorevole che genera poi la chiusura delle posizioni va bene andiamo avanti mi perdono le chiacchiere va bene ragazzi su Audi New Zealand non so neanche che cosa dire perché la frecciona verde che sapete benissimo non l'ho sfiorata neanche sfiorata dal giorno in cui l'ho tracciata potete andare a vedere tutte le registrazioni che volete è ferma l'immobile praticamente è come se il mercato avesse detto aspetta che mi incanalo nella frecciozza del Vaturi e che dire non lo so ecco qui sicuramente dovremmo prendere delle decisioni importanti perché siamo in un punto dove c'è una resistenza evidentemente dall'altra parte Audi New Zealand come vi ho detto più volte ha anche il potenziale di continuare a salire parecchio quindi dopo ci riflettiamo un attimo USD CHF anche lui preso bene col comprata qua non ha iniziato a salire subito ha traccheggiato un pochino ma adesso è entrato in demane e anche qui vedremo un attimino Audi CAD ci ha fatto penare un po' siamo entrati relativamente male ci è venuto contro un pochino ma ci è venuto contro una quantità tale per cui ci ha preso alla perfezione la mediazione e poi è sceso e anche qui adesso una decisione la dovremmo prendere perché è arrivato sulla parte bassa del canale New Zealand CAD ancora più bello di Audi CAD perché ha baciato l'ordine di mediazione veramente al millimetro è entrata e appena entrata è invertito pesantemente quindi qua gli possiamo proprio solo volere bene a New Zealand CAD che tra l'altro come vedete ultimamente ci ha fatto fare dei gran begli affari New Zealand CAD arriva da una serie molto molto positiva Audi Dollaro preso benissimo papapam Air New Zealand preso non benissimo preso sul minimo praticamente papapam Euro Dollaro comprata put e da lì sceso spatapam e GBP CAD che ne avevamo aperto una sola era quella che aveva suggerito qualcuno di voi settimana scorsa e purtroppo siamo entrati dopo questa candella rossa fossimo entrati prima era perfetto che quindi è un profitto molto piccolo ragazzi io vi dico la verità sarei sarei fortemente per fare un gran take profit di tutto cioè qua io farei uno scopone proprio di quelli proprio a rivederci grazie perché operazioni che ha veramente senso tenere aperte dopo una botta del genere boh ne vedo veramente poche perché sono tutte andate a nostro favore sono tutte arrivate ad un livello che potrebbe tranquillamente essere ancora un livello di continuazione del trend ma potrebbe invece anche essere un livello di inversione per esempio guardate questo Audi New Zealand abbiamo beccato proprio il movimento perfetto se lo guardiamo con l'Aikinashi lo vedi proprio bello pulito e adesso siamo arrivati in questa zona che come vedete ha fatto da inversione già diverse volte quindi qui o si fa qualche mossa tipo comprare la put che allora ti mette in bidirezionale però manca tanto tempo a scadenza e quindi la put sicuramente costa tanto e per cui ci peggiora il payoff notevolmente oppure signore e signori teni dimentichi arrivederci grazie se no ovviamente c'è sempre la solita alternativa del dire mi prendo il sottostante vado short di sottostante e mi metto risk free questa direi che vale la pena andare ad esaminarla con il nostro amico payoff Audi New Zealand abbiamo col comprata strike 1 08 e 50 pagata 107,3 pip 0,01073 quantità ne abbiamo due e la situation è questa sì c'è c'è lo zoom che è un po' altino eccolo qui la situazione è questa andiamo a esaminare le casistiche una è di andare short adesso di sottostante allora noi adesso stiamo guadagnando 110 pip no scusa alla scadenza dunque 107,84 noi stiamo guadagnando circa 80 pip a contratto vedete 107,184 arrotondiamo 187 stiamo guadagnando 80 pip a contratto per due contratti stiamo guadagnando 160 pip d'accordo? questo ci dice 110 ragazzi perché vi ricordo che il payoff at now è leggermente migliore del payoff a scadenza quindi in questo momento evidentemente il payoff at now è un qualche cosa di simile a questo ok? e piano piano si va a sdraiare quindi noi in questo momento stiamo guadagnando 160 pip un po' di più mentre alla scadenza ne guadagneremmo 110 questa differenza questa differenza qui questi 50 pip di differenza sono il valore estrinseco che ha la nostra call comprata da qui ancora diciamo caricato sopra da qui alla scadenza se vendiamo il sottostante al prezzo di carico attuale quindi 110 10 prendo proprio di riferimento il prezzo attuale ci troviamo così ragazzi cioè ci troviamo con un profitto garantito di 110 pip e il pay off aperto dall'altra parte però è aperto dall'altra parte aumentiamo un po' lo zoom è aperto dall'altra parte solo se si scende sotto il sotto lo strike d'accordo cioè per ricominciare a guadagnare Audi New Zealand dovrebbe scendere da dove è adesso fino a sotto qua sotto la base della cosa rossa da qui dove siamo adesso a qui non guadagniamo niente anzi perdiamo i 60 pip di valore strinseco e paghiamo lo swap del detenere short Audi New Zealand da quanto ammonta lo swap di Audi New Zealand in short 1,88 al giorno ragazzi per no però per 10 contratti non ne faremmo due per due contratti sarebbero 0,38 al giorno 40 centesimi di dollaro al giorno sostanzialmente e a noi mancherebbe la scadenza 44 giorni chiaro la valutazione del trade 44 giorni per 40 centesimi cosa sono 16 dollari more or less molto molto spannometricamente quindi perderemmo i 60 pip più 16 dollari per tenerci aperta la possibilità che vada in profitto qua sotto e avere un payoff risk free boh sinceramente non credo che ne valga la pena cosa ne dite oltre al fatto che il detrended soprattutto ieri è arrivato quasi dalle parti di un segnale short semi interessante io qua soprattutto considero che è un'opzione comprata quindi è pure teta negativa io qua direi di chiudere tutto l'ultima alternativa che non abbiamo valutato è smezzare cioè potremmo chiudere un contratto in profitto e lasciarne aperto un altro e magari l'altro che lasciamo aperto potremmo metterlo risk free mettendo l'ordine di vendita del sottostante al break even point questa è un'altra proposta giusto per dire per essere un po' creativi uno lo porta a casa in profitto e l'altro così però lo sto dicendo più per chiacchierare che per altro ragazzi secondo me qua secondo me qua si chiude e si porta a casa sapete sapete che secondo me ragazzi arrivederci e grazie è stato un piacere chiusa a uno ottantacinque otto uno otto cinque otto che quindi visualizzato vuol dire dunque uno zero ottantacinque uno zero ottantacinque uno zero ottantacinque più zero viva zero uno otto cinque otto uno dieci tre cinque otto quant'è che ho detto uno dieci tre cinque otto voilà e il break even point dove era nove cinquantasette preciso voilà ragazzi eccola qui questa lineetta nera esprime racconta tra virgolette il profitto fatto dall'operazione ok parte dal break even point e arriva sul punto di tra virgolette chiusura effettiva che ho calcolato facendo strike più premio a cui abbiamo venduto queste call la distanza seppur piccola che c'è fra dove arriva questa lineetta e il prezzo di adesso ragazzi cioè questa distanza qui il prezzo di adesso questi 26 pip circa sono quel famoso valore estrinseco vi ricordate che dicevamo che avremmo perso i 60 pip circa perché sono questi 30 per 2 ok questa qui è la visualizzazione del pay off at now in pratica del valore estrinseco dell'opzione è chiaro quindi grazie Audi New Zealand ah madonna dov'è 1 10 358 voilà ciao questo è il nostro trade abbiamo chiuso anche l'ordine pendente che era rimasto qua sotto basta queste poche lineette queste poche zone raccontano tutto e poi di solito faccio in grigio questa qui che mi ricorda quanto avevo pagato dove abbiamo chiuso la frecciozza predittiva basta c'ho tutta la storia del nostro trade il brello questo qui e ciao arrivederci grazie ecco usd c'hf ragazzi la tentazione di di chiuderla ci sarebbe ma non lo faccio perché secondo me il potenziale per procedere in questa direzione c'è su questo trade secondo me ci si può ce la si può fare tranquillamente di sicuro adesso tolgo quest'ordine pendente perché non ha più senso quindi o lo alzo o lo tolgo ma di sicuro adesso anche se poi alla fine mi andasse in perdita e cominciasse a scendere non ha comunque più senso ragionare di una contropiede tradizionale perché ormai è passato troppo tempo ci è andata a favore quell'ordine va tolto quindi vado sul conto e vado su sd chf che è qua e tolgo l'ordine pendente che è questo ciao qui stiamo guadagnando 108 dollari perché le abbiamo comprate a 57 pip questi 5 contratti e adesso valgono 76 potrei anche toglierne una parte portarmi a casa un pezzettino di profitto eh mh aspetto perché ci credo in una continuazione di questo rimbalzo per cui vediamo eh ecco queste sono già delle cose un pochino più più spinose vediamo quanto manca a guadagnare gli manca di guadagnare a GBPUSD abbiamo venduto 55 pip e valgono 20 e sta guadagnando 353 certo che la distanza è tantissima 3% 400 pip in un mese allora questa la provo a portare avanti ancora un po' ragazzi anche se la tentazione di portare a casa ci sarebbe onestamente ma la portacasa la tengo aperta ancora un po' così come tengo aperta ancora un po' Audi CAD e New Zealand CAD perché credo che possano rosicchiare ancora un po' però andiamo a vedere la situazione in termini di pip residui da guadagnare Audi CAD e New Zealand CAD vendute a 35 poi a 100 e valgono 42 e New Zealand CAD vendute a 32 poi a 100 e valgono 18 quindi forse forse New Zealand CAD potrebbe aver senso portarla a casa perché ormai è veramente per te portare a casa gli ultimi 18 pip tenerla aperta a un mese non ha senso no New Zealand CAD la porta a casa ragazzi guarda facciamo così togliamo Audi CAD teniamo solo New Zealand CAD seleziona tutto chiudi e pentiti close position ciao vendute a 18 18 pip 18 pip e mezzo 18 e mezzo vuol dire così ragazzi questo è 85 50 85 68 quindi 85 6 8 5 così sbam vi torna e con soddisfazione coloriamo di verde e guardate se questo non è un bel trade cazzarola questa è la ping pong perfetta entriamo col timing leggermente sbagliato entra ci bacia la mediazione e crolla questa proprio al bacio e New Zealand CAD ciao Audi CAD gli lasciamo ancora un po' di tempo Audi dollaro e anche questa ha beccato una bella inversione quanto vale ancora eccola qui 33 pip ne vale ancora 21 perché chiaramente valeva poco lo spread e tutto quanto quindi qui aspetto ancora un po' perché un po' di decadimento temporale mi fa comodo Eur News e abbiamo preso talmente bene il timing che non mi dispiacerebbe portarla a casa vediamo quanto vale abbiamo venduta 97 pip arrotondiamo a 100 e vale 35 questa ragazzi scusate ma la porto a casa abbiamo guadagnato il 66% credo in una settimana del premio intendo dire cioè due terzi abbiamo venuto martedì scorso giusto primo ottobre sì in una settimana due terzi del premio ciao addio e via dai che si miete stasera e a New Zealand 34,6 ed era la put 1,74 quindi 1,74 meno 34 diciamo 66 dai arrotondando leggermente ecco qui sbam proprio va che bello ragazzi questo settore qua sotto a suon di sell put l'abbiamo seccato proprio questo qua sopra ci abbiamo dato dentro ci siamo persi questo top questo bottom e questo top gli altri li abbiamo beccati tutti ciao poi dove eravamo euro dollaro questo è difficile questo è difficile questo è difficile perché ragazzi io qui non sfiderei la sorte il profitto non è enorme ovviamente è piccolino ma io qua non sfiderei la min reversion del dollaro dell'euro dollaro abbiamo comprate questi quattro contratti a 52 pip valgono 73 quindi sono solo 20 pip di profitto a contratto per quattro contratti un'ottantina di dollari però è sceso parecchio è su una trend line importante che avevo già disegnato prima che ci arrivasse vi avevo detto che il target mio era in quella zona se vi ricordate il detrende non è di quelli da smutandamento adesso ma è già nella zona interessante io qui ragazzi non sarei avido e porterei a casa siete d'accordo? addio chiusa mi sembra 74 pip sai che si aggiorna eccolo 73,4 pip quindi 74 pip lo strike era 1,1 meno 74 pip fa 109 26 giusto? l'avevamo pagata 52 pip quindi il break even point era 48 ecco guardate ragazzi questo è come al solito il la nostra lineetta del profitto che questa volta è ancora più bella delle altre perché come vedete il profitto fatto su questa operazione ragazzi è tutto fatto di valore estrinseco è tutto fatto di incremento del valore estrinseco perché il prezzo in questo momento non è neanche nella zona verde non è oltre il break even point quindi questo è tutto aumento di valore estrinseco dal punto in cui abbiamo comprato il contratto a dove siamo adesso che è leggermente in demane ma non ancora nella zona di profitto e al nostro appunto è andata da 50 pip a 70 molto semplice chiaro? quindi questo è veramente bello come trade e voilà eccolo qui bello preciso comprata qui chiusa qua che non era neanche in zona verde bellissimo ciao euro dollaro grazie delle ennesime soddisfazioni che ci regali ragazzi su euro dollaro non so più cosa dire comprate vendute in tutti i modi possibili e immaginabili di riffa o di raffa e poi abbiamo gbp cad che vabbè ragazzi è un contratto solo quindi c'è poco da dire lo lascio aperto per farlo macinare ancora un po' quindi per me non ha molto valore è vero che è su una trend line quindi potrebbe esserci un rimbalzo valutate voi se lo volete chiudere chiudetelo non mi sembra preoccupante e questo è quanto signori signori guardate che bella mietitura ve la posto su telegram tac and that's it ladies and gentlemen very very nice very nice e basta questo è quanto Marco dice il detrend di USG Caffè in una zona dove ha invertito quasi sempre però questo dici ma oddio no non direi no 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 non mi sembra così preoccupante la cosa è appena 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 uscita dalle dalla zona verde rosse verde gialla Mauro qualche nome gentile che tiene traccia delle operazioni chiuse grazie così vado a casa le chiudo stasera anziché domani l'ho appena postata sul gruppo telegram Mauro vai tranquillo e comunque sono rimaste aperte solo quelle che vedi il cable o si dice HF comprata Audi CAD che è la più spinosa Audi CAD ragazzi se volete portarla a casa portate la casa è una mia scelta qua di tenerla aperta Audi dollaro e GBP CAD il sorvegliato speciale GBP Audi purtroppo ha invertito in maniera molto repentina dopo aver fatto questo spike di detrended era prendibile non l'abbiamo preso semplicemente niente va bene così ciao tornate dal posto vediamo velocemente se c'è qualcosa di degno di nota qua nei sorvegliati speciali a parte di New Zealand che quasi quasi verrebbe voglia di entrare la short ma non ancora Euro Audi GBP New Zealand dollaro New Zealand CAD quasi verrebbe voglia di vendere le put New Zealand dollaro pure USD CAD ragazzi è potenzialmente molto carino eh USD CAD è quasi cotto e basta poi ce l'ho yen va bene che figata that's it cosa cosa volete di più non lo so sì New Zealand dollaro è quasi è quasi cotta viaggio secondo me è possibile il detrended comincia ad essere interessante eh pelo prestino per entrare ma può essere interessante se avessi una call più bassa su USD CHF o alla 0 84 85 aperta 60 vale 120 puoi tranquillamente considerare di portartela a casa Francesco assolutamente sì sarei d'accordo va bene velocissimi sul VIX eccoci qua il VIX finalmente fa vedere un po' di vita è salito un pochino oggi inverte andiamo subito a vedere il nuovo trade questa è la situazione su option strat tutto vagamente rosso al momento di poco ma oggi ha recuperato un bel po' e su Tasty su Tasty la situazione è questa dunque abbiamo la scadenza 42 giorni quindi dobbiamo usare quella di novembre dove abbiamo già le altre posizioni e il Delta 50 purtroppo si accavalla con due operazioni che abbiamo già quindi questo non è il massimo perché noi adesso dovremmo vendere la 21 e comprare la 23 o vendere la 22 e comprare la 24 in questi casi purtroppo non c'è moltissimo da fare ragazzi perché anche se dal punto di vista prettamente teorico aprire uno spread incastrato con l'altro in modo tale che una gamba comprata una gamba venduta si elidano in teoria vi crea un payoff finale che a livello di contabilità finale funziona cioè come dire è equivalente all'avere le due operazioni separate è comunque una cosa che non mi piace particolarmente che non consiglio diciamo così ok quindi non mi piace molto comunque pertanto qua la soluzione è solamente una ed è o quella di stare di stare in un altro range diciamo di stare di stare su altri strike quindi o quella di stare su uno strike più alto come quello che sto valutando io 23 25 quindi più su oppure di duplicare una posizione che abbiamo già cioè per esempio questa la 20 22 che potremmo aprirne un'altra perché la andremo a raddoppiare andremo a rivendere un 20 e a ricomprare un 22 chiaro solo che in questo caso sarebbe una operazione un po' più aggressiva perché come vedete è un delta 57 il 20 quasi 60 d'accordo quindi una è una mossa leggermente più conservativa una mossa leggermente più aggressiva oppure ovviamente c'è sempre la sacro santa mossa del non fare una cippa di niente quando c'è questa situazione ad ogni modo io specificatamente opto per questa mossa cioè dell'aprire lo spread leggermente superiore perché per me un delta 44 è ancora assolutamente in un range di accettabilità se la regola dice delta 50 se vado a prendere un delta 30 ovviamente non va bene se vado a prendere un delta 44 va ancora bene è ancora molto vicino e anche la quantità di premio che incassa è simile a quella che che incassiamo sempre quindi per me va bene la 23 25 di novembre vediamo se me la fa aprire non mi ricordo se proviamo a negoziare un po' il prezzo partiamo da 33 presa ragazzi presa a 33 fa vedere un attimo ecco questa è la situazione di tutte le cannavics che ho aperto in sala ne ho qualcuna anche sul conto eb fatto sta che la situazione è questa oggi mi ha aperto la 23 25 e anche qua vedete come siamo posizionati osti mi sa che ho sbagliato ragazzi che pirla l'ho aperta al contrario vedete capita anche nelle migliori famiglie vedete mi era rimasto qui long call strategy perché oggi l'ho usata per aprire una bull call e ho sbagliato guardate ho comprato il contratto 23 e venduto il 25 è sbagliato è al contrario non l'aggiusto oggi l'aggiusto domani d'accordo domani la chiudo e la inverto però ricordatevi che il giusto è 23 25 bear call spread non bull call mi raccomando come vedete ci si sbaglia anche dopo anni serenamente bear call spread mortacci de pippo 20 novembre 25 23 ecco giusto si tutto giusto save trade e su trading view viene così 25 23 e 30 e 23 ecco domani l'aggiusto va bene that's it ladies and gentlemen vado dagli team misti fate bravi e buona serata oh mi raccomando mi aspetto regali costosissimi a natale l'indirizzo lo sapete vi ha le monza 258 vi guardo se no ciao